Salve ragà, mancano meno di sei minuti abbondanti alla fine della partita io sto veramente avvelenato con sto pezzo di merda cioè io sto avvelenetissimo, questi in dieci e noi in undici non ne abbiamo fama segnaie, guarda non solo, tutte qua, tic tic, perdiamo tempo noi, perdiamo tempo l'immortacito, perdiamo tempo noi, perdiamo te possiamo ammazzare, te perdevo tempo noi, guarda cioè questi in dieci, cioè invece non devi fare qua e là con questi passaggi che perdi i minuti preziosi, butta dentro a sto cazzo dei palloni non aspetta fino alla fine cazzo, maledetti ma questa è colpa di quel balordo che sta in panchina, porco madonna mia, guarda, cioè se non vinceremo questa partita te dobbiamo ammazzare qua, te dobbiamo ammazzare, guarda dai, dai madonna mia, te qua e là, mica vanno, stanno fuori ieri cinque, sei, che cazzo stanno a fare qui in mezzo niente, niente cioè rimangono tre, quattro fuori che questi stanno tutti arroccati dentro che cazzo stai a fare, vai dentro tutti dentro, cazzo cioè stanno in dieci, Cristo la salernitana poi, regà cioè io mi ho fatto sei come ogni la famo a fare madre mia, madre mia cioè mamma mia che incefalitici oggi, guarda poi arrivi all'ultimi secondi che vede corsa, vede corsa, perché funziona così, no? quasi 85esimo dai, dai, gira subito niente, niente questi stanno arroccati, non ne fai devi buttare dentro la palla, devi crossare, devi crossare cioè io veramente, guarda dai, cazzo, dai, dai vabbè che noi siamo abituati, capito? arriva fino alla fine, sta con l'acqua a cuore poi magari riusciamo pure a segnare, di culo come cazzo, perché di solito vinciamo sempre così quest'anno nel momento 7-8 di partito così a culo vediamo se il culo ci assista ancora però porca puttana, sto giro palla de merda, sto giro palla de merda porco Dio, che palle, mi fanno a fan cazzaggi, madonna mia guarda, McKenney, McKenney McKenney ha perso mannaggia, la madonna ti spacco la faccia, ti spacco coglione di merda, ti spacco la faccia testa di cazzo ti metto a far cosa, ti metto a far madonna mia dai, cazzo, dai, dai io, io, non, non, non non ce riesco, ragazzi, non ce riesco non ce la faccio, guarda, veramente mi viene, mi viene nervoso perché porca puttana cioè, c'è, c'è semplice, è semplice porco Dio manna 7-8 tutti dentro l'aria due soli devono rimanere dietro due soli, questi non vanno manco con contropiede lasceranno la mità contropiede, Cristo è bello che ci fanno pure segnare, guarda facile che ci segnano pure, guarda niente, niente, niente se stiamo a far si acciare adesso pure se stiamo a far, guarda questi po' segnano, questi segnano questi segnano mamma mia questi segnano madonna, pietà del Dio, guarda veramente non fare fallo vai dai che si è buttato con Andrea non rompe il cazzo, si è buttato Cristo butta giù, butta giù vai, vai, vai vai, butta giù sto pallone no, non ti ferma quello sta apposta a fermo là perché vuole perdere tempo vuole perdere tempo quello è fatto apposta per 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 Cristo lunido ma non rompere il cazzo testa di cazzo che sta lì per terra fa finta deficiente vuole perdere tempo testa di cazzo eh se buttano per terra perdono tempo esci fuori e battano affanculo eh fa finta che è morto no mamma mia regaio guarda è cascato da solo è cascato guarda guarda quindi l'antisportività no questa è l'antisportività no è quello che te fa incassare ecco perché io voglio che mettono il tempo effettivo che ogni volta che è guarda non sai come si è incassato con la roba che ci addosti le catenine ancora perché perde tempo tutto per perdere tempo fanno tutto per perdere tempo cioè sono due minuti che stanno fermi con sta cazzata di quello là cioè non è possibile guarda mettete il tempo effettivo come in tutti in tutti gli sport il tempo effettivo ci deve stare Cristo Santo non è possibile che poi alla fine non recuperi mai quello che cazzo hai perso perché funziona così testa di cazzo madre mia guarda andiamo ora voglio vedere quanto cazzo recupero se non dà almeno 7-8 minimo 7 minuti minimo porco Giuda la palla la devi buttare dentro ancora che ci incischi il tempo finisce testa di cazzo ancora che fanno fanno così fanno te guardi là te guardi là ora gli ha ripassato indietro ora gli ha ripassato a lui poi gli ha ripassato a questo ma gli ha ripassato indietro un'altra volta ecco Rugani che ha ripassato indietro dalla indietro lo vedi lo vedi che porco mi spacco la fascia maledetti luridi vai porco mannaggia la madonna porco Dio mi fanno incazzare porco Dio che spastico c'è i piedi fucilati stombacille non è possibile non è possibile non è possibile cazzo non è possibile cioè l'altro giorno gli eravamo fatti sei spastici qui stanno un dieci andiamo a farmi segnali andiamo a farmi segnali è finita è finita è finita c'è questa partita è là dove vince per forza che poi c'è una partita un po' più agevolata a confronto dei pagliacci noi deviamo arrivare almeno a due punti o magari pure a pari punti dai dai alla porco addici vai madonna mia non sappiamo fare il grosso non sappiamo guarda vai 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 go go porco dio go porca madonna è zompato tutto porco dio mannaggia la madonna go porco dio sta qua fanculo è saltato tutto madonna bastarda lulida che cazzo è successo no è saltato tutto che cazzo ho fatto ho toccato qualcosa che cazzo ho toccato madonna maledetta dove cazzo è qua ho toccato il telecomando porco giuda vaffanculo va ho fatto un po' tutto ho toccato il telecomando ho fatto tartare tutto vaffanculo Vlaovic tiè gufi attaccato per cazzo gufi di merda tiè 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 sti pagliacci di merda tanto stavo lì eh perché no era un oltraggio non vincere sta partita era un oltraggio vai a fare in culo eccolo grande ma grande corpo di testa di Vlaovic grande corpo di testa di Vlaovic vaffanculo quello che non sa stoppare la palla eh regà quello che non sa stoppare la palla che ha fatto il primo tempo ha fatto uno stop che non sa ma ma manco per lei faceva qui stop c'è veramente grande Vlaovic grande grande Vlaovic sei il mio mito sei il mio mito vaffanculo cinque minuti danni due dei minuti di recupero per tutto il tempo che hanno perso perché il tempo lo perdevano loro mo mannaggia la madonna mannaggia a Dio guarda mi sta a fancazzare sto coso mi sta facendo incassare sto coso mo si è bloccato sto cazzo sto da Zon ogni tanto gli avviene un colpo porco di Dio non pare a questo porca puttana è un casino della madonna sto da Zon ogni tanto gli avviene un infarto adesso noi siamo noi che dobbiamo perdere tempo perdete tempo che palle sto da Zon ora si blocca lo tercazzo ahhhh è un po' porca madonna gli avvia i corpi gli avvia andiamo dai 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 tocca soffrire fino alla fine con questi pure oggi dai comunque ragazzi veramente non saprò arriva fino all'ultimo che devi devi giocare così la partita cioè mo addirittura devo far noi la cadena alla fine ma no 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 che angolo la toccata marcio d'angolo mancano due minuti alla fine carcio d'angolo due minuti ma non male che cosa inserga a sostituto o spin lungone quello più arte di tutti ma perché si blocca che cazzo c'è oggi sto fregno ogni tanto si blocca si rompe allora vediamo sto carcio d'angolo vai 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 ma dove cazzo è passato questo cefali ma che ha dato ma che cazzo ha dato io non lo so ah è un po' sbrighi è un po' sbrighi ma come prima perdevi tempo è un po' sbrighi sta lì sta lì sta lì che è mutata eh mo te sbrighi eh pezzo di merda prima ha fatto un antisportivo del cazzo perde tempo e mo te sbrighi eh fallo arbitro eh mo te sbrighi eh ecco dove mi fanno incazzare questo devo mettere tempo effettivo non lo ti coglioni hanno rotto non lo toccare non lo toccare eh fai meno male un minuto vai dai 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 vi stiamo corfiato sul collo pagliacci ti ho detto dobbiamo arrivare a scontro diretto che anche se state a due punti avanti o magari potremmo arrivare pure che stiamo a pari punti e lì dopo se decide cominciate a tremare a cagare sotto perché quello dovete fare cagare sotto d'ora in poi capito dai e che cazzo c'ha sto fregno che rompe i coglioni che si blocca non lo so oggi che c'ha sto cosa grande vlaovici grande vlaovici grande troppo forte io ho sempre detto questo è un fenomeno questo è un fenomeno non lo so che cazzo c'ha sto cesso da merda comunque regà cambiamo mettiamo su un'altra cosa perché qui questo fregno mi sta facendo incassare sto cosa mi sta a fare incassare dai 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 che è finita su arbitro devi da fissiare devi da fissiare che è passato già mezzo minuto fuori fuori vai 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 cazzo vai cazzo vai vai si vai e dai 45 fischi arbitro dai tranquillo c'è di tranquillo perdi tempo mettete a dormire tranquillo come facevano loro prima mettete a dormire mettete a dormire dormi dormi devi dormire cesni eh ah in sacchi come fa guarda quanto tempo ci sta a mettere ma come quando perdevano tempo i giocatori tu ah è finita è finita pagliacci stiamo arrivando vi sfranghiamo noi anche se è stata molto sudata sta partita però è finita tiè vaffanculo ha capito gufacci di merda stiamo sempre lì e non ce scappate grande vlavice grande vlavice dagli regà dagli dagli dai dai dai